Ciao, questo messaggio è per gli amanti della blasfemia. Se le bestemmie ti danno fastidio, non lo guardare il video, schippa, metti stop, leva, lo vai da un'altra parte, se no poi ti innervosisce, ti infastidisce, dici che è offensivo, non si fa, gn 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 gn. Se sei invece una persona blasfema, oppure un simpatizzante, o semplicemente toscano o veneto, ti sarai sentito dire mille volte questa cosa che la bestemmia non si fa, è volgare, è maleducazione, il rispetto per gli altri, se... In realtà la blasfemia, oltre ad essere estremamente divertente, ha una sua funzione linguistica, sociale, emotiva e politica, è una delle forme più pure di libertà di espressione, per questo viene costantemente osteggiata dal potere, e quindi nella nostra cultura se te scappa una madonna te guardano come se tu avessi bruciato dieci orfani. Tanto che in alcune parti del mondo, accusare qualcuno di essere blasfemo, per il potere è uno strumento efficace per reprimere o togliere comunque di mezzo avversari politici o gente che gli dà fastidio. Esiste una campagna internazionale che si chiama End Blasphemy Laws, che promuove l'abolizione di tutte le leggi contro la blasfemia in tutto il mondo, perché in alcune parti del mondo si rischia seriamente. Qui da noi in Italia puoi avere ripercussioni sulla tua reputazione a scuola, all'università o sul lavoro. In altre parti del mondo arrivano fino a tagliarti la testa, quindi proprio a sostegno di questa campagna in Italia si sta organizzando un festival per settembre 2021 che si chiamerà Sessine Paon Blaspheme. Non so se l'ho detto bene in francese. Festival delle arti per la libertà di espressione, che attraverso l'offerta di informazioni, spunti di riflessione, opere d'arte, culturali, concrete, propone la promozione del concetto di positivo, di blasfemia e di libertà di espressione, la Blasphemy Positivity. Il festival si terrà dal 10 al 30 settembre 2021 ed è il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Napoli, ma è completamente autofinanziato e quindi qua intorno ci sono tutte le modalità per sostenere questa campagna attraverso il crowdfunding. Io lo so che i blasfemi non stanno soltanto in Veneto e in Toscana, ma stanno un po' da tutte le parti, quindi mi raccomando, sostenete l'iniziativa e spargete la voce! Porca madre!